Gentili telespettatori, buona giornata. Parliamo di Fabiana Dadone del Movimento 5 Stelle. Vediamo che cosa ha detto questa grillina. Ministro delle politiche giovanili. Vi ricordate quella con le scarpe sulla scrivania per far vedere che lei era, non so, maglietta dei Nirvana e scarpe sulla scrivania nello studio appunto del Ministero, una mancanza di rispetto istituzionale senza precedenti. Non avevamo mai visto in Italia un ministro con i piedi sulla scrivania. Però attenzione, stiamo parlando dei 5 Stelle. Cari signori, li avete votati? Li avete voluti portare in politica? Beccatevi questa gente. E così Fabiana Dadone, ministro delle politiche giovanili, ha twittato che il cashback, bandiera del fu governo Conte, avrebbe fatto guadagnare allo Stato 1,2 miliardi netti solo nel 2020. E giù critiche contro indovinate chi? Salvini e Meloni, da sempre oppositori di quella misura. Anch'io sono oppositore di quella misura. Io quella misura ce l'ho sulla carta di credito. Che cos'è il cashback? Tu spendi 1000 euro e ti danno dei punti che tu puoi cambiare poi in soldi tramite la banca, che corrispondono secondo il tipo di carta di credito, che può essere lo 0,5, l'1, l'1,5%. Spendete 1000 euro e vi tornano indietro, in diverse forme, anche in soldi, 15 euro. Quello è il cashback. Ti tornano indietro dei soldi. In questo caso era fatto in modo diverso. Io vi ho fatto l'esempio della carta di credito che ho io. Il cashback è una formula di questo tipo, che avrebbe fatto dare comunque dei soldi agli italiani in più. A te 15 euro, a lui 50 centesimi, a lui 1 euro. Se spendete, attenzione, se spendete, se non avete soldi da spendere, il cashback per voi non serve a nulla. Naturalmente è una spesa che lo Stato sostiene e Meloni e Salvini, come vi dico io, giustamente dicono ma, scusate, ma tutti quei soldi non li possiamo dare agli imprenditori che stanno fallendo piuttosto che buttarli così a pioggia un euro qui, un euro là? No. Solo che la ministra Dadone si è dimenticata di ricordare che lo strumento è stato applicato lo scorso anno solo per una ventina di giorni, a dicembre, mese in cui i consumi sono scesi, e c'è stato un minore incasso da IVA per lo Stato di 1,4 miliardi. Pertanto lei parla del 2020 senza neanche sapere che questa misura è durata 20 giorni di dicembre, in un momento anche abbastanza per l'economia. Pesante. Quindi se la matematica non è un'opinione, ma la Dadone non è nuova GAF con avversari politici. Ha 35 anni e nonostante la giovane età non può essere considerata una veterana dei 5 stelle. È diventata deputata nel 2013, laureata in giurisprudenza e approvato senza successo a superare l'esame da avvocato. Due anni nel corso di un dibattito in aula aveva bacchettato l'ex ministro per le riforme i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi, colpevole di non prestare attenzione alla discussione, di perdere tempo parlando al telefono. Peccato che la piddina di stretta osservanza renziana fosse a colloquio con Palazzo Chigi, che le confermava la liberazione di alcune persone. La Boschi aveva il compito di dare l'annuncio al Parlamento, una figuraccia emblematica di un certo modo di fare pensare e comunque rapportarsi con l'avversario politico, che è prerogativa del Movimento 5 Stelle. Recentemente in un'intervista a Repubblica si è anche espressa sul DDL ZAN, dicendo delle cose un po' curiose. Diciamo che i grillini li conosciamo, cari amici ex votanti del Movimento 5 Stelle, perché tra di voi ci sono molti ex votanti 5 Stelle. La prossima volta, alle prossime elezioni politiche, pensateci su bene. Prima che i grillini ci rimandano altri dilettanti allo sbaraglio, ci ripropongono un altro Danilo Toninelli, un'altra Elisabetta Trenta, un'altra Dadone, un'altro Bonafede, un'altra Azzolina, un'altro Di Maio, Di Battista, l'Alezi e tutti gli altri, Fioramonti. Ecco, insomma, prima di votare ancora, la prossima elezione, pensateci bene a chi date il voto. Poi ci mandano in Parlamento delle persone che con la politica non hanno niente a che fare, sono semplicemente prese e messe lì e dicono cose che non hanno né capo né coda. Mi raccomando, alle prossime elezioni. Intanto arriva l'arcordo storico che imporrà alle multinazionali di pagare almeno il 15% di tasse. Per i grandi colossi industriali un'aliquota globale minima che andrà applicata paese per paese. Il cancelliere dello scacchiere britannico, Sunak l'ha definita una stretta all'illusione fiscale. Soddisfatto Draghi è un passo verso una maggiore equità e giustizia sociale per i cittadini. Plaudono Google, Amazon e Facebook. Ora si punta a coinvolgere anche Cina e Russia. Intanto parliamo di un'altra cosa importante. Nuove regole per la pubblica amministrazione. Arrivano 24.000 assunzioni a tempo determinato. Brunetta dice una ventata di modernità. Il decreto approvato dal CDM prevede l'assunzione di 500 persone per rendicontare le spese del recovery e di oltre 400 addetti informatici. Via libera anche all'assegno unico per 2 milioni di famiglie con figli minori e promozioni selettive. Bene, diciamo che ogni tanto tra le 25 priorità di letta arriva anche qualche buona notizia. Tra le scissioni, le fusioni, i giochini elettorali politici, le invidie varie, arriva qualche buona notizia. Assunzione nella pubblica amministrazione per 24.000 persone e le tasse che arrivano sulle grandi aziende che eludono il fisco in tutto il mondo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video qua su Teleitalia. Grazie a tutti e a presto! Ricordatevi che c'è anche l'abbonamento, se volete, un euro al mese per poter vedere un video in più al giorno. Grazie a tutti, ci vediamo tra una ventina di minuti. Grazie a tutti.